Ciao adorabili amici, prima di parlare dell'Historic Anthology 5 devo fare un annuncio. Finalmente posso dirvelo, il 26 di maggio spoilererò in anteprima mondiale una carta del nuovo set Modern Horizons 2. Ed è una gioia incredibile, signori miei, che bello scrollare questa pagina e vedere il mio nickname che rimanda al mio canale YouTube. Eccolo qua, beh, basta, ok. Signori, son felice, son felice, grazie Wizards, son contentissimo di fare parte, in un certo senso, di questo set che si preannuncia essere rivoluzionario per diversi formati. E sono in hype, non conosco ancora la carta, ma qualsiasi essa sia, son felice, grazie mille ancora a Wizzy. E noi ci vediamo il 26 di maggio con un video dove annuncerò la magia sgarbata di Modern Horizons 2. Bene, annuncio che mi rende felice, ma mi rende, devo dire, felice anche l'Historic Anthology 5. Perché? Punto 1, ci sono un botto di carte per il mio amato Tempered Steel, poi le analizziamo nel dettaglio. Punto 2, rispetto all'Historic Anthology 4, sembra che Wizzy abbia, come dire, corretto le tipologie di carte inserite. E come costo, devo dire, è decisamente più worth in termini di risorse investite per carte ottenute. Detto questo, oggi vediamo anche quali sono i safe craft, cioè quelli che non vogliono spendere questa cifra, ma vogliono craftarsi le singole carte. Oggi parliamo di quelle che, secondo me, saranno le carte che andranno a impattare di più il formato e delle quali un giocatore di Historic non può fare a meno. Prima, però, faccio una premessa. Ad oggi, ora che sto registrando il video, non è ancora uscita l'annuncio dei ban. Molto probabilmente andrà a toccare Tainted Pact o Tassas Oracle. Quando uscirà l'annuncio dei ban di Historic lo inserirò nei commenti di questo video, quindi, nel caso voi non sappiate dove trovarlo, lo inserisco nei commenti. Oppure, se è già uscito, lo trovate già adesso nei commenti. Per questo motivo valuterò le carte un po' nel vacuum, quindi senza fare troppi riferimenti al meta, così da, visto che non sappiamo come si evolverà Historic dopo questo ban, così valutate un po' le carte a prescindere dal ban che arriva, oppure no. Anche perché, con ban uscito, ovviamente, bisognerebbe aspettare un po' di giorni per vedere come si evolve il meta. Detto questo, come vi dicevo, ci sono tante carte in questa Historic Anthology 5 che non so quanto impatteranno Historic, perché ormai Historic è un formato dal power level molto alto, ma sono tante armi in più per diversi archetipi che potrebbero dare una spinta, come ad esempio Tempered Steel, potrebbe dare una spinta a questi archetipi per emergere un pochino nel meta. Ci sono anche tante armi da sideboard che vediamo, e ovviamente ci sono i command, gli amati command. Partiamo però da Ancient Grudge, istantaneo, costa 2, 1 rosso, 1 incolore, distrugge un artefatto con flashback verde. Come vi dicevo, è una di quelle carte che aiuta le sideboard dei deck Historic. Qua, come per tutte le comuni in realtà, è un safe craft, perché tanto siamo pieni di wildcards comuni, quindi è un'arma in più per i deck grul per distruggere gli artefatti. E ci sono parecchi artefatti molto fighi che vediamo ora nelle prossime carte. Atarkas Command, personalmente il mio command preferito, tra l'altro il command che ho giocato di più, perché ormai un po' di anni fa, 4-5 anni fa, giocavo Naya Burn con Atarkas Command, ed era una delle carte più belle da giocare. Atarkas Command, ve lo dico subito, secondo me è un safe craft, se vi piacciono i deck grul aggressivi. Cosa fa? Questo istantaneo costa uno rosso, uno verde, e dice scegli due. Un avversario non può guadagnare vita in questo turno, infligge tre danni ad ogni avversario, puoi mettere una terra dalla tua mano nel campo di battaglia, e le creature che controlli prendono più uno più uno e guadagnano reach. Ogni modalità ha la sua situazione dove è forte. In un deck aggressivo ti permette di counterare la possibilità dell'avversario di guadagnare vite e sparare tre danni diretti. In un deck grul basato su creature dai più uno più uno e reach, oltre a fare danni, oltre a fare arrampare eventualmente, carta super versatile che per due mana, due soli mana, a velocità instant, fa un sacco di roba fortissimo. La Tarkas Command è consigliato il craft, assolutamente, se vi piacciono questi colori. Ma vediamo, forse la comune più bella? No, la seconda comune più bella, perché ce n'è un'altra più figa. Per Tempered Steel, il court homunculus. Uno uno, che costa uno bianco, creatura artefatto homuncolo, e prende più uno più uno fin tanto che controlli un altro artefatto. Chiaramente un eccezionale drop a uno per Tempered Steel, deck che ne ha bisogno di drop a uno, ne ha davvero bisogno di drop a uno forti, e un buon drop a uno non è solo lui che renderà Tempered Steel forse un pochino più performante, ma sicuramente un'ottima aggiunta. Se siete fan come me di questo archetipo, che ho portato innumerevoli volte qua su YouTube, Easy Craft, il court homunculus, proprio facile facile, comune, molto forte. Dragonstorm, 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 signori, costa nove sorcery, nove di cui uno rosso, cerca nel tuo mazzo un drago permanent, una drago permanent card, quindi un drago, e mettilo sul campo di battaglia e poi rimischia il deck e dà Storm. Dragonstorm! Quanti ricordi con questa carta mi riportano proprio alla mia infanzia, quando c'era il cugino, mio cugino, l'amico di mio cugino, o forse il cugino dell'amico di mio cugino, che giocava al deck Dragonstorm e mi distruggeva sempre. Non vedo l'ora di provarlo qua su Magic Arena, vengono fuori robe super spicy con Dragonstorm, super super spicy, ma non me la sento di dire che è un safe craft, perché è una di quelle carte fortissime, perché fa cose Dragonstorm sicuramente, ma è un po' presto per dire, ok, avrà un impatto sul meta historic, però è uno dei payoff più zarri per la meccanica Storm, e quindi io la crafterò subito, ma in realtà io mi prenderò il pacchetto, ma dovessi craftare la crafterai subito. Super spicy Dragonstorm. Vediamo Dromokas Command, istantaneo, costa uno verde e uno bianco, e dice, previeni tutti i danni che un istantaneo e una sorcery spell ti starebbero facendo questo turno, un giocatore sacrifica un incantesimo, metti un segnalino più uno più uno su una creatura, una creatura che controlli combatte una creatura che non controlli. Come per Atarkas Command, se vi piace la combinazione Selesnia, craftate Dromokas Command. Altro istantaneo che storicamente ha visto il gioco, un pochino meno rispetto a Atarkas Command, ma che fa tantissime robe per soli due mana, e le fa a velocità istantaneo, quindi super rilevante. Ovviamente, come tutti i Command, è super versatile, e ha un po' di hate per gli incantesimi, ha la sinergia con i segnalini più uno più uno, e in più è anche un removal. Io il deck segnalini l'ho giocato abbastanza, vorrei provarlo Dromokas Command, perché può fare un po' tutto quello che serve al deck. Detto questo, dovete essere proprio fan di questa combinazione di colori, per dire che è un safe craft, perché comunque rischia di essere sempre un po' troppo situazionale. Non è il migliore dei Command, ma sicuramente è un ottimo istantaneo a due. E poi veniamo al piatto forte, i pretori. Elesh Norn arriva su Magic Arena. Che carta Elesh Norn? Costa 7, di cui 2 bianchi, 4-7, Vigilance, creatura leggendaria, pretore. Le altre creature che controlli prendono più 2, più 2. Le creature controllate del tuo avversario prendono meno 2, meno 2. Chi non ama Elesh Norn? Credo pochi, pochissimi. Non so quanto impatterà il meta di Historic, ma se siete giocatori, o wannabe giocatori di Historic Brawl, craftate almeno una copia di Elesh Norn. Carta leggendaria, non perché è una creatura leggendaria, ma perché è leggendaria storicamente. Poi io sono un grandissimo fan dei pretori. Mi viene difficile dirvi di non craftarla, perché è fighissimo avere nella propria collezione Elesh Norn, però non so quanto impatterà. In generale, quanto impatteranno i pretori in Historic, visto che è un formato molto veloce? Ci sono dei modi per, tra virgolette, cittarla in gioco, cioè metterla in gioco direttamente dalla mano, o dal cimitero, ma forse ci sono anche migliori payoff rispetto a Elesh Norn, che è comunque un po' situazionale nell'effetto. Questo non vuole togliere nulla alla forza della buona Elesh, ma non mi sento di dirvi che è un safe craft. Se non avete tante wild cards mitiche, aspettate a craftare Elesh Norn. Se siete giocatori di Historic Brawl, e credete nel formato, oddio sono andato avanti, craftatene una copia, e non ve ne pentirete. Altro safe craft, come in realtà tutte le comuni, è Grizzly Salvage. Questo istantaneo, costa uno nero e uno verde, dice, rivela le prime cinque carte del tuo mazzo, puoi scegliere una creatura o una terra fra di esse, aggiungerla alla tua mano, e le altre le metti al cimitero. Quindi è un ottimo tool, giocatissimo, in diversi formati, per automillarsi il deck. Oltre che, essendo instant, ti permette di tutorarti una terra o una creatura, in un certo senso, ovviamente guardi solo le prime cinque, però, carta super solida, carta importantissima per i deck automill, o dredge, chiamati in gergo dredge, quindi, un ottimo tool in più, per questo archetipo, arriva su Magic Arena. Arriva una staple, l'incredibile di Commander. Non l'ho ancora detto, sapete che devo dire questa frase, almeno una volta, in ogni video, High Core Wellspring, costa due artefatto, quando entra nel campo di battaglia, o è messo nel cimitero, dal campo di battaglia, pesca una carta. Interessante, nei deck Sacrifice, se abbiamo modo di sacrificare, l'High Core Wellspring, possiamo pescare due carte, una quando entra in gioco, e una quando lascia il campo di battaglia, è una solidissima comune, solidissima High Core Wellspring, quindi ottima aggiunta. Abbiamo un'altra ottima aggiunta, altra carta alla quale io sono molto legato, parlavamo di Modern, uno dei miei primi deck budget in Modern, era Hord of Tokens, dove giocavo Intangible Virtue, costa due, di cui uno bianco e uno in colore, e dice, le creature e token che controlli, prendono più uno più uno, e hanno Vigilance. Purtroppo non hanno messo Linger in Souls, con quest'antology, come alcuni dicevano, e purtroppo non ci sono dei token generator così forti, secondo me, in historic, ma se mai dovessero arrivare, Intangible Virtue renderebbe sicuramente più forte l'archetipo. Ad oggi, secondo me, non basta per i deck token, Intangible Virtue, ma è sicuramente una carta storica di Magic, ed è una buona aggiunta, aggiunta tutto sommato, per questa Anthology 5. Solida non comune, quindi neanche costosa. Se siete proprio invasati con i deck token, quattro wildcards non comuni, potete anche buttarcele. Into the North. Io ho un sacco di hype per Into the North. non è entusiasmante come carta, ma secondo me è un solidissimo rampino. Costa due, di cui uno verde, Sorcery, cerca nel tuo mazzo per una Terra Snow, mettila nel gioco, mettila in gioco tappata, e poi rimischia il deck. Un rampino, Sorcery, a due, che ti permette di tutorare una Terra Snow, e, in realtà, ne abbiamo parecchie di interessanti, secondo me non va sottovalutata. Sempre in ottica Historic Brawl, quando Wizards, per favore, ce lo metterà come formato permanente, questa sarà staple. Assoluta. Perché è uno dei migliori rampini a due che avremmo per il formato su Arena. E, in generale, pagare due e mettere in gioco una Terra dal campo di battaglia non è affatto male. Terra Snow, interessanti, ce ne sono, io terrei d'occhio in To The North, assolutamente. Ma vediamo a Jean, vediamo il signor Jean, agili 10 mana per un 5-4 pretore con flash, all'inizio della tua endstep pesca 7 carte, e, la cosa zarrissima di questa carta, ovviamente stapling commander, ogni opponent ha il suo end size ridotto di 7, e quindi non possono tenere carte in mano, a meno che non abbiano modo per ampliare il numero di carte che possono tenere in mano. Spietato, Jean, spietato. Chiunque se l'è visto giocare contro sa quanto questo pretore possa essere odioso, ma per chi lo gioca, tante soddisfazioni. ovviamente è una di quelle carte che costa tanto mana per historic, visto che è un formato rapidissimo, in historic brawl ovviamente sarebbe eccezionale, safe craft assolutamente no, ci sono modi per cittarla in gioco, sì, ci sono dei modi per ramparla, sicuramente, è un po' presto ora per valutarlo, quindi aspetterei un paio di settimane per vedere se Jean e in generale tutti i pretori che vediamo oggi vedono effettivamente gioco in archetipi forti in historic. Safe craft invece con la gun's command. Con la gun's command. Carta incredibile. Forse il miglior command. Non il mio preferito perché all my love is for a Tarka's command, ma con la gun's command easy safe craft. Che tra l'altro va a potenziare i deck Rakdos che possono fare un ottimo uso di questa carta. Gli attuali deck Rakdos in historic con la gun's command fanno cose. Cosa fa questo istantaneo? Costa 3 uno nero e uno rosso e dice scegli due. Fai tornare una creatura dal tuo cimitero alla tua mano. Un giocatore scarta una carta, distrugge un artefatto e infligge due danni a un qualsiasi bersaglio. tanti effetti, tante cose per soli tre mana a velocità instant. Questa carta nella storia di Magic vede gioco tantissimo. Quindi avvercela in historic e tantissima roba e sono curiosissimo di vedere quanto gioco vedrà anche in historic. però secondo me è uno dei safecraft più solidi di questo historic antologi 5 a meno che voi ovviamente non vogliate mai giocare Rakdos perché che ne so odiate il Milan e non volete giocare con la gun's command altrimenti secondo me è un safecraft. Merfolk looter 1-1 costo 2 merfolk rog lo tappi e scarti una peschi una carta e poi scarti una carta. Il classico looter ci sta nulla di entusiasmante ma in fondo è solo una comune. Ojutai command che inizia a essere costosetto istantaneo costa 4 di cui uno bianco uno blu e dice scegli 2 fai tornare una creatura con costo di con mana value scusate 2 inferiore dal cimitero al campo di battaglia guadagni 4 punti vita counter a una magia creatura o pesca una carta. Lojutai command forte molto versatile come tutti i command non so se è quello che vuole un deck che gioca i colori azorius in historic in questo momento ma fa tante robe per 4 mana secondo me fra tutti i command è uno dei quelli un pochino meno safecraft perché dipende un po' dall'archetipo dove viene giocato però sicuramente una carta da tenere d'occhio quindi ottima carta come anche in realtà poi il command di mir che però direi aspettata investirci wild cards vediamo se vede gioco in qualche archetipo ray of revelation altra carta da sideboard comune quindi questo è un safecraft sicuramente per 2 mana di cui uno bianco velocità instant ci permette di distruggere un incantesimo abbiamo la possibilità di fare flashback a uno verde c'è poco da dire altra ottima carta da sideboard ottima carta da sideboard anche la reliquia costa 1 artefatto tappi e un giocatore esilia una carta dal suo cimitero paghi 1 e esili la reliquia e esili tutte le carte da tutti i cimiteri e peschi una carta nella storia relic è sempre stata molto presente nelle sideboard dei giocatori di magic anche qui in historic può dire la sua e aiutarci contro i deck basati sul cimitero safecraft poco da dire sulla reliquia del progenitus reverse engineer torniamo nel territorio artefatti ci sono due carte blu in realtà per il deck artefatti la prima è questa reverse engineer costa 3 sorcery costa 3 scusate costa 5 sorcery improvise quindi gli artefatti che abbiamo in gioco possono aiutarci a lanciarla per meno mana e questa sorcery ci fa pescare 3 carte ora se voi scrollate il mio canale youtube vedrete un sacco di deck artefatti principalmente prima di tempered steel lo giocavo azorius utilizzando emry ad esempio osai come payoff per quella tipologia di deck reverse engineering può aiutare parecchio invece lato tempered steel quindi molto più aggro questa no non giocherei il blu per reverse engineering basterà per queste carte dell'historic antologi 5 per creare due archetipi basati sugli artefatti non saprei però sicuramente è un'ottima sorcery che fa pescare tantissimo e quindi fa cose reverse engineering teniamola ad occhio vediamo sheol dread altro pretore cattivissimo costa 7 6 6 passa paludi all'inizio del tuo upkeep fai tornare una creatura dal tuo cimitero al campo di battaglia all'inizio di ogni upkeep di ogni avversario quell'avversario sacrifica una creatura ecco questo è un signor payoff da rianimare in un deck che punta a rianimare il prima possibile le proprie creature rianimi share all dread e rianima grazie a share all dread altre creature del cimitero fighissimo cattivissimo questo pretore e forse è quello per il quale investirei un pochino più di wildcards nell'ottica deck reanimate tanta roba ovviamente in historic brawl però fighissimo questo pretore arrabbiatissimo vediamo l'ultimo command silungars command costa 5 istantaneo 5 di cui uno blu uno nero scegli due counter una magia non creatura bersaglio fai tornare un permanente in mano al suo proprietario una creatura prende meno 3 meno 3 fino alla fine del turno e distruggi un planeswalker forse fra tutti command è quello un pochino meno da savecraft ma se non distruggono totalmente il deck tainted pact potrebbe magari vedere un po' di gioco lì perché comunque per 5 mana facciamo tante robe rilevanti contro diversi deck quindi carta super versatile carta che io tra l'altro ho giocato tantissimo in commander e che mi piace un sacco però rispetto alla tarkas command e rispetto al collega command secondo me bisogna aspettare un po' di più prima di craftare bisogna vedere un po' come si evolve il meta quindi è un forse savecraft ma metterei in questa categoria tutti i command forse savecraft e poi abbiamo un'altra bomba stifol costa un singolo mana blu istantaneo counter una abilità attivata o triggerata carta storica di magic che ha fatto tante cose brutte nella sua storia nella sua lunga vita nella vita di stifol in historic può fare cose stifol perché comunque ha un effetto molto versatile però secondo me la forza di questo istantaneo è quando vai a counterare il trigger di una fetch e quindi gli spacchi terra a 1 e lì la pericolosità di stifol senza un meta con le fetch è vero che ci sono più fabled passage in giro grazie a brainstorm però senza fetch non è così pericolosa secondo me come carta ma attenzione ma è un'ottima aggiunta nel nostro pool di carte su arena per contrastare eventuali deck e quindi secondo me vedrà gioco stifol non so in quante copie una o due copie forse la definirei safe craft 4x di stifol non tanto se siete giocatori comunque di control dei mazzi blu tenete ad occhio stifol perché storicamente ha fatto tanta roba quindi ottima aggiunta per le storicantologi vediamo poi trash for treasure questa è una delle mie carte preferite costa 3 di cui uno rosso sorcery come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica un artefatto fai tornare un artefatto dal tuo cimitero al campo di battaglia non abbiamo artefatti tipo il colosso di blight still in historic quindi non abbiamo questi grandissimi payoff per trash for treasures però però qualche deck magari lo vuol giocare per rianimare qualcosa e sicuramente un'arma in più per il deck gift che stanno provando in tutti i modi a potenziare vediamo vediamo comunque una non comune ottima aggiunta vediamo insieme dagli ultimi due pretori vorinklex ho già parlato di vorinklex in un altro video sicuramente enorme payoff carta sgarbatissima urabrask un pochino più agile da lanciare un 4-4 che dice le creature che controlli hanno haste e le creature controllate dall'avversario che entrano nel campo di battaglia tappate ce l'ho fatta mi sono un attimo impappinato quindi creatura super aggressiva carta molto figa che dà haste ovviamente staple in commander incredibile però costando un pochino meno degli altri colleghi non mi stupirebbe se vedesse gioco safe craft no come tutti i pretori direi aspettate un paio di settimane prima di procedere al craft a meno che voi non siate giocatori di historic brawl in quel caso l'uno per safe craft vediamo poi le ultime due carte per i deck artefatti whirler rog io ci sono legatissimo anche di questa in realtà ne avevo già parlato ma è una di quelle carte che potrebbe rendere giocabile un deck azorius artefatti magari però richiede che sia un deck aggressivo tempered steel non credo con anche le nuove aggiunte voglia giocare il blu sinceramente lo proverò anche un azorius con tempered steel potrebbe starci whirler rog sicuramente ha avuto impatto negli standard passati io ci sono molto legato è un'ottima non comune se siete appassionati come me dei deck artefatti easy craft perché tanto è non comune ma sono un po' titubante sull'andare azorius prima forse ho detto orzo vinto in devazorius però lo proveremo lo proveremo non so se è questo il drop a 4 che comunque vuole un deck aggressivo con gli artefatti vista la velocità di historic però abbiamo un incredibile incredibile drop a 1 per i mazzi tempered steel vault skirj arriva in su magic arena perché drop a 1 perché questo è mana pyrexiano quindi possiamo pagare 1 in colore e pagare 2 punti vita per giocare subito la skirj 1-1 artefatto con volare e lifelink come dicevo all'archetipo tempered steel mancano tantissimo le creature a costo 1 aggressive ne sono arrivate due la più importante secondo me è appunto vault skirj è vero che non siamo ai tempi di modern affinity quindi non abbiamo cranial plating da attaccare alla skirj ma ma è sicuramente forse il miglior drop a 1 slash drop a 2 che abbiamo per il deck tempered steel evasiva con lifelink quindi con la possibilità di riguadagnare anche i punti vita persi per lanciarla che è appunto esattamente ciò che ci serve nell'archetipo quindi vincitore di questo storico antologico 5 sulla carta poi vedremo con i fatti è sicuramente il deck tempered steel e io non posso che esserne felice non posso che esserne felice tantissima roba e sono curioso di provare queste carte su magic arena tutto sommato vi ho dato un'indicativa su cos'è un safe craft per quest'antologico ma devo dirlo il costo di gemme lato gemme o lato gold questa volta a differenza dell'historic antology 4 e super world quindi se avete modo di spendere queste risorse che siano con soldini o con gemme che avete raccimmolato draftando o con gold fatelo perché comunque anche in ottica altri formati per eventi quindi non solo historic ma appunto historic brawl o altro ci sono tantissime ottime aggiunte su magic arena quindi gg wizards questa historic antology è una delle migliori secondo me se non la migliore bene signori io vi ringrazio per essere arrivati fin qui vi ringrazio anche per il video dei tre anni dove ho ricevuto un sacco di commenti sgarbatissimi anzi adorabilissimi e dolcissimi mi avete davvero fatto un piacere enorme cioè sono proprio contento grazie mille per l'affetto e ci vediamo con un prossimo video e mi raccomando 26 maggio non perdetevi la mia spoilerata che sono davvero in hype grazie ancora wizards per questa possibilità e grazie a tutti voi per il supporto grazie a tutti